Buongiorno amici di BCTV e benvenuti a Biassono per un compleanno speciale, quello della Coppa d'Inverno che oggi, domenica 16 ottobre, spegne le sue prime 100 candeline. Una manifestazione storica quella promossa dall'Unione Sportiva Coppa d'Inverno di patron Giancarlo Noli e Adriano Nova, a capo del team organizzatore, che anche quest'anno farà calare il sipario sulla lunga stagione 2022 degli Elite e Under 23. E in questi 100 anni la Coppa d'Inverno ci ha regalato tante emozioni, sia nelle prime 30 edizioni, in cui era a Milano il teatro della competizione, sia da quando nel 1945 Biassono ha accolto con piacere l'evento, come confermano il sindaco Luciano Casiraghi e l'assessore alle politiche giovanile Ilaria Rivolta. Oggi si spengono le 100 candeline e qui devo ringraziare sicuramente il patron che è Noli Giancarlo. Non voglio neanche tralasciare Nova Adriano, uno degli organizzatori che è alla ricerca anche di tantissimi volontari per poter fare questa corsa perché bisogna posizionarli in ogni caso ai semafori, agli incroci. Quindi senza queste persone non riusciamo anche ad organizzare questa grandissima corsa. Sì, è una manifestazione importantissima per noi perché appunto ci permette di dare lustro al nostro territorio in una competizione comunque così importante, riconosciuta a livello nazionale. In particolare io sono felice di essere qui oggi perché è una competizione per i giovani, sono categorie under 23. Io proprio come assessore alle politiche giovanili sono qui in sostituzione dell'assessore allo sport che non ha potuto essere presente però sono felice di presenziare a una gara che lascia grandissimo spazio ai giovani e appunto come dicevamo dà anche una grande visibilità al nostro territorio. Prima di entrare nel dettaglio della competizione e mentre vedete le immagini dei ragazzi, dei 135 ragazzi pronti a scattare, permetteteci di rivolgere due arrivederci speciali. Il primo è quello a Franco Binda, direttore di corsa di Besanabrianza, che oggi chiude la sua onorata carriera e che siamo comunque sicuri di rivedere il prossimo anno a bordo strada da appassionato qual è. Il secondo, se possibile ancora più caloroso, è per tutti quei ragazzi che abbia sonno disputeranno la loro ultima gara. A loro auguriamo un'ultima grande corsa, li ringraziamo per tutte le emozioni che ci hanno regalato e gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il loro futuro, con la speranza che anche loro vogliano restare vicini a questo meraviglioso sport. Ed entriamo quindi nel dettaglio di questa centesima edizione della Coppa d'Inverno, a cui parteciperanno 135 dei 152 atleti iscritti. Le squadre al Via saranno 24 e andiamo a menzionarle tutte. Ci sarà il team Mazzola Vigor, ci sono i ragazzi dalla Borgomanero, c'è la ciclistica Rostese, la Garlaschese, la Land Service, l'XGP Beltrami, l'Unione Ciclistica Pregnana, il Trentino Second Team, i Bergamaschi dalla Valle Seriana, c'è la Overall Trecoli Cycling Team, la Onec Team, i ragazzi della Nazionale Ucraina che vedete qui inquadrati, ci sono i brianzoli della Named Sport Aptivo, ci sono gli svizzeri dello Spider Cycling Team, attenzione alla formazione proprio diretta da Adriano Nova e rimanendo in Svizzera il Veloclub Mendrisio, sempre qui inquadrato da le immagini di Simone Marchi. Abbiamo al Via anche la Campania Imballaggi, il Sissio Team, il Pedale Scaligero, l'Aria Cycling Team, la Beltrami TSA Tre Colli, la Opla Petroli Firenze Don Camillo, attenzione alla squadra toscana che schierà Lorenzo Quartucci e poi tra le favorite il team Colpac Ballan che paradossalmente tutto quello che hanno vinto nella loro storia non sono mai riusciti a mettere in bacheca la Coppa d'Inverno e poi eccola qua la Carnovali Rimesias, squadra vincitrice uscente, visto che nel 2021 si impose con Andrea D'Amato. Puntualissimi sulla tabella di marcia sono le 11.30 e i 135 atleti schierati sia al Via sono pronti ad animare la centesima edizione della Coppa d'Inverno. Siamo a Biassono, partenza da via Cesana e Villa dove sarà anche l'arrivo. Per questi atleti si prospetta un circuito più lungo rispetto al solito, sono 155 chilometri articolati su un circuito di 31 chilometri da ripetere 5 volte. Il gruppo transiterà tra i paesi di Biassono, Macerio, Sovico, Ponte Albiate, Triugio, Canonica, Lambro, Gerno, Lesmo, Correzzana, Brugora, per poi ritornare a Triugio, Canonica e fare addirittura ad arrivo verso Albiate, Sovico, Macerio e Biassono. Come vedete, come intravedete dalle immagini in moto di Simone Marchi, sono strade anche abbastanza anguste, strette, con tante curve e che potrebbero permettere al gruppo di spezzarsi. Tanto è vero che nel passato, nel recente passato, poche volte abbiamo assistito ad arrivi a gruppo compatto. Visto che stiamo già parlando delle edizioni passate, andiamo anche a ricordare chi ha alzato le braccia al cielo a Biassono nel recente passato. Ci sono state due vittorie di Fabrizio Bontempi nell'87 e nell'88, di Luca Paolini nel 1998, di Jaroslav Popovic nel 2001 e qui ha vinto anche Jakub Marezco nel 2013, recentemente vincitore, Jakub, di una tappa al Tour del Langawi. L'ultimo a vincerlo invece, l'abbiamo detto, è stato Andrea D'Amato che mise in fila i tre compagni di fuga con cui si era avvantaggiato nel finale. A proposito di atleti che si possono avvantaggiare e che si sono avvantaggiati, eccoli qua, i due battistrada, siamo al chilometro 20 e in avascoperta abbiamo due atleti. Si tratta del numero 55 Lorenzo Elipanni, dalla campana in ballaggi, ragazzo classe 2000, quindi al suo ultimo anno tra gli under 23 e che ha tra l'altro alle spalle alcune esperienze nel ciclocross nel 2019-2020. Poi abbiamo visto anche col gruppo, col numero 134, Alessio Palma, in questo momento in Avascop è lì davanti a tirare, è un 23enne piemontese della ciclistica rostese, formazione in cui militava già nelle categorie giovanili, quindi va fatto un plauso alla società piemontese che è in grado di seguire i ragazzi dalla categoria allievi fino ai margini del professionismo. La loro azione è molto buona, abbiamo visto che dietro c'è la Beltrami che sta cercando di tenere, di ricucire lo strappo, è uno strappo però che ha superato il minuto. Difficile ovviamente, mancando 130 km, che questa azione sia quella decisiva, però i due ragazzi sono molto bravi, fanno incetta di traguardi volanti, ovviamente si devono anche alimentare, perché la gara è ancora lunga, anche se la media della prima ora è talmente elevata, vediamo infatti che anche il gruppo ci sta dando dentro, è una media della prima ora che si sta aggirando intorno ai 44 km orari, quindi molto superiore rispetto a quello che era previsto sulla tabella di marcia predisposta dagli organizzatori. E qua infatti vediamo che, lo dicevamo, il gruppo stava cercando di darci dentro, proprio nelle curve di Triugio, è lì che si può spezzare il gruppo, come sta effettivamente accadendo. Stiamo prendendo tempo per cercare di capire quali sono i dorsali dei numeri che si stanno avvantaggiando. Vediamo, riconosciamo una maglia della Carnovali Rimesias, non riusciamo però a capire chi possa essere, eccolo qua, è il numero 5, è il trentino Federico Iaccomoni, ventenne nato a Trento il 18 luglio e che non più tardi di un mese fa ha vinto a Somma a Lombardo, in provincia di Varese, la sua prima gara tra gli under 23. Con lui c'è il numero 123 in questo momento a ruota, è Daniele Anselmi, classe 2003, quindi al suo primo anno nella categoria, è un bergamasco che corre per la Land Service Gran Monferrato, è un ragazzo cresciuto tra la SCO Cavenago prima e poi all'aspiratore Otelli e l'abbiamo già visto piazzato due volte in questa stagione, prima nel criterium di Monte Carlo e poi al trofeo Rancilio il 16 giugno scorso e siamo così fortunati ed è così bravo il nostro cameraman Simone Marchi che riusciamo a vedere il momento in cui al 45esimo chilometro il trappello di testa si forma e si passa dalle due unità, dai due tandem a un quartetto. Alle loro spalle vediamo il gruppo non più così lontano, ovviamente c'è stata l'accelerazione da parte di Iaccomoni e Anselmi che ha tirato il gruppo più vicino a Battistrada, ma ci è sembrato di vedere anche un ragazzo che in solitaria stava provando a rientrare, non sarà un'operazione facile, eccolo qua, lo vediamo proprio in questo momento, stiamo parlando del numero, se non abbiamo visto il numero 92 Belloni Luca, è un under, classe 2003 anche lui, della overall track quality cycling team che avrà però il suo bel da fare per rientrare perché davanti sono in quattro, lui è da solo e non sarà facile riuscire a richiudere. Sembra che nemmeno il gruppo abbia tutto questo interesse ad andare a richiudere su questa azione, abbiamo visto la colpa che ovviamente non avendo un uomo inserito in fuga deve stare lì davanti a monitorare la situazione. Davanti invece sembrano avere la possibilità di allungare su questi strappettini, su cui di solito per chi è della zona è facile incontrare magari la ciclocrossista Rebecca Gariboldi che si allena molto spesso in queste zone, è la ragazza di Davide Martinelli e tra l'altro oggi domenica 16 ottobre ha vinto la sua prima tappa del Giro d'Italia ciclocross a Sant'Elpidio al Mare in provincia di Fermo. Torniamo però a parlare della centesima coppa d'inverno perché i quattro avanti stanno tirando sempre di comune accordo. Magari riusciamo a quantificare da questa immagine il vantaggio e com'è la situazione? Sì, più o meno il Luca Belloni che è l'Emiliano di Piacenza proveniente dal team Armofer ha circa una trentina di secondi ma come vedete ha le sue spalle, alle spalle sue e di conseguenza degli battistrada si sta riportando veemente il gruppo, c'è un corridore del Colpac Balance, sembrava Ambrosini che stava cercando di allungare e in effetti cinque chilometri più tardi, quindi siamo all'inizio della terza tornata, siamo al sessantacinquesimo chilometro, vediamo che in davanti sono diventati in cinque perché si è riportato sui battistrada Matteo Ambrosini. È un ragazzo interessante questo, è un ragazzo che da soli due anni corre in bici, è un ex patinatore in pista di Canove di Roana ed è al primo anno tra i dilettanti dopo un'esperienza tra gli amatori. Il team Colpac Ballan gli ha dato fiducia e vedremo come se la cava, ricordiamo è un ragazzo classe 2002, quindi avrà altri due stagioni tra gli under 23. Risaliamo velocemente il gruppo per capire chi sta cercando di riportarsi sui cinque che però sono nel mirino. Vediamo che il gruppo non sta lasciando spazio a questi battistrada, anzi li ha riassorbiti e subito dopo, immediatamente dopo, è ripartita un altro tentativo a cinque atleti. Intravediamo per esempio ancora una maglia della Carnovali Remessias, qui sono gli immediati inseguitori, attenzione, questo è Josue Epis della Carnovali e alle sue spalle c'è Colnaghi, quindi un tandem molto pericoloso che sta inseguendo i cinque battistrada a una trentina di secondi. Vedremo se il gruppo sarà così passivo perché si stanno formando due tentativi molto interessanti. Ricordiamo, Epis non è nuovo a queste azioni, tantomeno Andrea Colnaghi, stiamo parlando di ragazzi molto molto forti. Così come sono molto forti i cinque atleti che vediamo qui inquadrati, che cerchiamo di riconoscere. Con il numero 29 stiamo parlando di Simone Carrò, 21enne, atleta di Aquiterme, salito sul podio già il 12 giugno scorso a Borgo Valbelluna, dove è chiuso al secondo posto il 77esimo giro del Piave. Vediamo anche la maglia della Carnovali Rimesias col numero 2, ora sta andando in testa, è quella di Christian Bagatin, il solito Christian Bagatin, campione lombardo della cronometro, un ragazzo sempre all'attacco anche se quest'anno gli manca veramente solo la vittoria. Vedremo se questa Coppa d'Inverno riuscirà a rompere la maledizione. In terza posizione in questo momento vediamo Nicola Bordoli, 21enne, Bergamasco della Valle Seriana, anzi Valtellinese della Valle Seriana, cresciuto tra gli junior nel team Giorgi. Intanto vediamo i due inseguitori, ancora Colnaghi e Epis, che però mantengono un ritardo di una quarantina di secondi, quindi forse per loro è il caso di rialzarsi e farsi riassorbire da un gruppo che in questo momento veleggia con circa un minuto di ritardo dal quintetto di testa. E non sarà facile, non sarà facile andarli a riprendere, anche se come vedete sono due formazioni forti a rincorrere, c'è il team Colpac Ballana ancora una volta fuori dal tentativo e poi c'è anche la Opla Firenze Petroli, quindi sono due corazzate che potrebbero effettivamente andare a chiudere il buco. Vediamo qua l'ultimo passaggio sotto il traguardo a 31 km, la situazione è tornata col gruppo alle spalle dei 5 battistrada compatta e il gruppo in seco 45 secondi, quindi 31 km, 45 secondi da recuperare, c'è molto margine per farlo, ma sarà da menare dietro, anche perché davanti abbiamo anche Daniel Giannello, che è portacolori dallo Spider Cycling Team, quindi formazione di Nova che conosce a mena dito questo percorso, tra l'altro Giannello ha fatto già quattro piazzamenti quest'anno e soprattutto il danese della Rostese, Danius Enneberg, già due vittorie per lui in stagione e soprattutto si parla per lui di un contratto con la Drone Oper Androni di Gianni Savio, quindi se la formazione di Gianni Savio proseguirà la sua attività nel professionismo, Magnus Enneberg dovrebbe essere dei della partita, quindi dovrebbe passare il professionismo nella stagione 2023. Prima di pensare alla stagione 2023, questi 5 atleti stanno cercando di chiudere il 2022 con una potenziale vittoria, però alle loro spalle il gruppo sta facendo davvero sul serio, vediamo, si stanno guardando dietro e questa è una bruttissima immagine per loro, il cambio ruote li ha superati e effettivamente il gruppo è davvero a caccia dei battistrada, ci sono 20 secondi tra i 5 fuggitivi e il resto del plotone, stiamo entrando in questo momento a Biassono, quindi mancano soltanto 4 km, ma sarà difficile, vedete, Carro si gira, sta cercando di capire com'è la situazione, vedremo anche noi, anche il nostro cameraman si dovrà girare perché se il gruppo è lì dobbiamo toglierci tra i due gruppi e in effetti lo facciamo in questo momento e questo significa che dietro ai fuggitivi non c'è più spazio, vediamo quindi se sarà davvero una volata da ranghi compatti, quella che deciderà la centesima edizione della Coppa d'Inverno e sembra proprio di sì, sì sì, sembra proprio di sì, 5 attaccanti sono stati ripresi, vediamo effettivamente ancora una maglia della Carnovali, Rimesias davanti e una maglia del Coppa che sta cercando di riuscire, colpo di Reni tra i due, sinceramente non sappiamo, non ci azzardiamo a dire chi potrebbe essere il vincitore di questa centesima edizione, rivediamo il replay da un'altra in quadratura, magari siamo più fortunati, c'è Epis davanti con Persico, sì sono gli occhiali azzurri di Persico questi, colpo di Reni, eh no dovrebbe essere, dovrebbe essere Epis, sì la faccia di Davide Persico la dice tutta, è proprio Giosuè Epis il vincitore di questa centesima edizione della Coppa d'Inverno, è meritata la vittoria della Carnovali che ha corso una fantastica competizione e completiamo il podio con Davide Ferrari della Named Sport Aptivo, lui è di Lissone quindi è un bel postio per lui, terzo posto meritato. Giù dal podio sono finiti Lorenzo Quartucci dalla Opla Petroli Firenze, quarto, poi Simone Buda della Named Sport Aptivo, poi c'è Federico Iaccomoni della Carnovali Rimesias, bravissimo Federico, Gianluca Cordoli, settimo post-op della Sissio Team, Andrea Biancolani della Beltrami TSA ottavo, Nicola Appettiti della Overal Trecycling e poi decimo Tommaso Ros della ciclistica rostese. E ora spazio alle interviste. Sì ci tenevo molto a far bene oggi appunto per concludere al meglio la stagione e comunque poter andare, poter affrontare un inverno in modo tranquillo, sono riuscito a vincere quindi sono contentissimo. Com'è stata questa corsa? Perché ci hai provato anche nel corso dello svolgimento della gara andando in fuga all'inseguimento con dei 5 battistrada? Sì sapevo che comunque il percorso portava comunque a delle fughe, allora ho deciso di provare sullo strappo un po' più duro. Non siamo riusciti a prendere molto margine quindi ho deciso di giocarmi le mie carte in volata ed è andata bene. Raccontacela questa volata perché è stata tiratissima con Davide. Sì c'era via il mio compagno fino all'ultimo chilometro, ero pilotato da Federico Iaccomoni che appunto è stato bravissimo a portarmi ai 200 metri, a entrare prima nell'ultima curva e poi sono partito e ha dato tutto. Ti chiedo due cose, prima la dedica e poi soprattutto visto che siamo a fine stagione che si fa l'anno prossimo? Ma l'anno prossimo ho deciso di approdare alla Zalf per il 2023 perché avevo bisogno appunto di nuovi stimoli. La dedica va comunque alla mia squadra, alla Carnovali che mi ha fatto crescere fino all'altro giorno, va sicuramente al mio direttore sportivo Daniele Calosso, al presidente Marica, al presidentessa Marica e va a loro. Davide Persico, è mancato un pelo oggi per chiudere la stagione degli under 23 con una vittoria? Sì, è mancato davvero poco però sono parito un po' troppo tardi a fare la volata e aveva già un bel vantaggio, ero rimonta però vabbè, secondo va bene comunque dai. Che stagione è stata la tua? Sono parito bene fino a giugno, poi dopo il giro ho avuto un po' un calo anche col caldo e mi sono ripreso bene verso agosto solo che erano tutte gare un po' dure per me e adesso comunque ci tenevo a finire bene, è un secondo a posto che dà comunque morale. Ti abbiamo visto anche in una corsa internazionale come la Parigi Tours, che esperienza è stata? No, è stata davvero una bella gara comunque come organizzazione e tutto come il Tour de France e è stata emozionante, a parte il finale che ero davanti e ho forato nell'ultimo settore di sterrato e è un'altra sfortuna che non ci voleva però vabbè, va bene così. Non è stata, come hai detto tu, una stagione fortunata nei dettagli? Cosa hai imparato e cosa ti porti nel 2023? Se ci puoi dire anche qualcosina in più su quello che farai anche se no... Ma sì, per ora penso di stare tra gli anni 23 ancora con la Colpac e sicuramente quest'anno sono cresciuto, sono migliorato tanto in salita e ho fatto qualche gara all'estero che ti insegna come correre e l'anno prossimo speriamo di fare un calendario migliore di quello di quest'anno con qualche gara in più all'estero. Davide Ferrari, gara di casa, si chiude la stagione 2022 e arriva un bel podio dai. Sì dai, è la prima volta che è dilettante, che faccio questa corsa di casa, ci tenevo parecchio. È stata una corsa tirata, anche se magari da non fuori non è sembrato ma siamo arrivati infatti in pochi a fare la volata poi Persico e Epis sono stati più forti, sono usciti subito con un bel vantaggio dalla curva poi devo ringraziare il mio compagno Buda che mi ha portato su perché ha avuto un salto della catena l'ultima curva e sono uscito a ottenere comunque un buon podio. Raccontacela tu dal tuo punto di vista privilegiato questa volata perché come hai detto l'ultima curva evidentemente è stata decisiva. Sì, ha lanciato la volata a Liseo, Lunga, sono partiti prima dell'ultimo strappetto sono usciti in testa loro e penso che Epis sia partito quasi subito dopo la curva con un ragazzo della Sissio, poi è partito Persico e hanno preso subito quei 20 metri e da dietro poi ero in rimonta e sono uscito a ottenere un bel terzo posto. Facciamo un bilancio questo 2022, la stagione è finita, cosa hai imparato o cosa ti servirà in vista per il futuro? Ma diciamo che per me è stata una stagione che ho rincorso la condizione perché mi avevo da un brutto infortunio dell'anno scorso, ho fatto tutto l'inverno in ospedale e ho riniziato ad andare in bici solo a metà gennaio la prima parte sembrava essere vita solo per recuperare dall'infortunio poi quando sembrava che avessi ritrovato la condizione ho preso anche il covid e quindi diciamo che mi la sono goduta l'ultimo mese e mezzo varra due Adriano Nova, centesima edizione al Capo d'Inverno baciati dal sole e dal lato sportivo pure un ragazzo, un tuo ragazzo che è andato vicino a giocarsi la vittoria penso che si possa essere soddisfatti Diciamo che i ragazzi attendevano questa gara perché praticamente per tutto il movimento è l'ultima gara anche se qualcuno farà ancora attività sui criteri di martedì prossimo il Daniel Giannello è un periodo che sta andando direi molto bene cioè centra le fughe però poi è abbastanza sfortunato nelle fasi conclusive della ricerca della fuga sono diverse corse che è lì che primeggia coi primi però non è ancora andato a fare grossi risultati cioè durante l'arco della stagione ha ottenuto anche qualche discreto piazzamento nei primi 5, nei primi 10 e oggi lui stesso si aspettava qualcosa in più un po' avvilito per il fatto che appunto a chilometro e mezzo hanno chiuso però come dicono in Francia se la course è la corsa La corsa a noi è piaciuta proprio anche per questo c'erano via 5 uomini si è chiuso tutto, si è rimescolato tutta la carta a un chilometro e mezzo penso che sia bello vedere una corsa così anche e soprattutto per chi la organizza come voi Certo, sicuramente, di grosso aiuto è stato il tempo, il clima che lì non lo puoi né programmare né prevedere però ci ha dato un grosso sostegno il sostegno comunque è dato dai ragazzi che hanno interpretato la corsa in modo egregio a memoria mi sembra siamo intorno ai 43-44 di media insomma una buona media sui saliscendi della Brianza vuol dire che i ragazzi hanno combattuto poi vabbè il vincitore è un degno vincitore e speriamo di ritrovarci ancora in queste situazioni qua sia atmosferiche che di caratteristica della gara prossimamente L'aiuto l'hanno dato i corridori ad animare la corsa credo che voi dobbiate però dire un grazie a chi vi ha dato un contributo a livello non solo economico ma anche i volontari che hanno prestato il loro tempo alla manifestazione Beh è chiaro che ad un certo punto quando imposti manifestazioni di questo genere hai tutta una situazione alle spalle di sostegno sia da parte degli sponsor sia da parte dell'amministrazione comunale di Biassono che è veramente attenta nei nostri confronti ci sostiene da diversi anni e chiaramente il nostro è un meccanismo abbastanza collaudato e chiaro tutta questa sinergia porta anche a cercare di creare degli eventi che abbiano quantomeno un significato che abbiano un tono, una caratteristica una loro diciamo spontaneità per essere mostrati poi al pubblico ho visto tra l'altro molta gente, parecchia gente qui in direzione e in direttura d'arrivo e questo ci conforta sicuramente di più per gli anni a venire è un'altra cosa è un'altra cosa